I nostri tre giorni che tutti gli anni organizziamo per la nostra fondazione, ma quest'anno appunto sono i 40 anni di attività della Gigi Girotti, quindi l'impegno è maggiore. Anche oggi, sabato, abbiamo veramente una ricca serie di avvenimenti a corollario della giornata che attirano un po' i nostri cittadini, che possono così chiedere, avere informazioni. E aiutarci con le donazioni. E poi domani saremo nelle chiese, una ventina di chiese di Genova, con i nostri semi tradizionali dei fiori, e non ti scordare di me, per una raccolta fondi. E lunedì, ecco, lunedì sarà, come dicevi, lo spettacolo, la serata speciale per raccontare i nostri 40 anni con tutti i nostri amici artisti, musicisti, sportivi, che ci hanno seguito in tutti questi anni e che gentilmente vengono a offrire la loro abilità artistica in uno spettacolo che, secondo me, si ricorderà a Genova perché le prospettive di un bel successo ci sono. Devo dire che i cittadini hanno risposto molto bene. Ieri mattina eravamo con una disponibilità di poco più di 200 posti. So che stamattina stanno andando avanti le prenotazioni online. Non lo possiamo anticipare, ma noi speriamo lunedì di fare il sold out. Comunque, il teatro è quasi pieno e siamo molto contenti di questo perché avremo modo così di celebrare insieme ai genovesi e di ricordare un po' la nostra storia di questi 40 anni. Noi ci occupiamo di divulgazione della tap dance, un'arte molto antica ma da un sapore assolutamente moderno e abbiamo lezioni e corsi un po' di tutte le discipline legate al mondo della danza, del canto e della recitazione. E siamo qui, come l'anno scorso, come tante altre volte, per sostenere la Gigi Ghirotti. La magia del tip-tap, la possiamo chiamare così? Perché? Assolutamente sì, perché il tip-tap è una danza e un'arte a cui si possono avvicinare tutti, dai più piccoli ai più grandi, da già gli esperti a coloro che invece si avvicinano per la prima volta. Quindi assolutamente dovete provare, perché quando si prova poi non si smette più. Perché è fondamentale iniziare il tip-tap? Raccontaci il perché. Allora, io in realtà ho iniziato facendo danza classica. Poi mi avevano detto di ascoltare più la musica. Allora sono entrata in questa sala di tip-tap con l'insegnante alta fondatrice della scuola, Romino Guzzoni, e non ci sono più uscita. Da quando avevo otto anni e adesso ne ho ventisette, quindi direi un paio di anni, ecco. Raccontaci come si può fare per iniziare un percorso insieme a voi. Allora, basta semplicemente andare in via Orsini, 47 Rosso, benissimo, e chiedere informazioni e si fa una prova gratuita e poi se ci si piace ci si ferma. Ma il ritmo in quanto tempo si trova? Allora, secondo me il primo passo in realtà lo sai fare anche tu, perché tutte le volte che camminiamo facciamo dei passi di tip-tap in realtà. Oppure anche solo con la punta. Quindi sono cose che sapete già fare, ma non sapete di saperle fare. D'altra parte il tip-tap è una danza nata per la strada e quindi come tale è una danza veramente a cui si possono avvicinare proprio tutti in qualunque momento della propria vita.